e io non li avvertivo. A questo punto della mia vita mi sono resa conto che le energie invisibili esistono sotto innumerevoli forme. Se fossi stata infatti più evoluta avrei capito molto prima che la radiazione elettromagnetica esistono e io non le avvertivo. Gli ultrasuoni esistono e io non li avvertivo. Le frequenze ultraviolette esistono e io non le avvertivo. I raggi cosmici esistono e io non li focalizzavo. Le energie termiche esistono e io le avvertivo soltanto. Le radiazioni del radium esistono e io non le vedevo. I sogni esistono e io non li toccavo. L'aria esiste e io non la vedevo. I gas tutti esistono e io non li vedevo. Gli odori esistono e io non li vedevo. I flussi magnetici esistono e io non li vedevo né li avvertivo. Persino la luce che attraversa l'aria io la focalizzavo ma non la vedevo. Questo mi ha fatto capire che quando rinnegavo l'esistenza delle energie invisibili come sono quelle spirituali ero nella mia piena ignoranza. Commento L'intuizione dell'oltre è un fatto di sentire e non di mente. Sì? L'intuizione dell'oltre è un fatto di sentire e non di mente. Sì? Sì?